Ditelo a noi, vi ricordate che siamo stati qui alla chiesa di San Vito Antica, Corso Mazzini, e ci avevamo interessati perché siamo stati sensibilizzati a questa cabina dell'Enel che fu e stata ampliata. Vi era una tavola di ponte, come si suol dire, una tavella, no? Era una tavella dei mattoni. Ebbene, dopo la sollecitazione sempre dell'ingegnere di Natanasio, devo dire la verità, è stato tolto tutto, ma i mattoni, parte sono stati tolti, ma parte stanno qua a terra. E li vedete, vedete? Questa è un'arma impropria, se è lasciata qua a terra. Bene, giustamente anche Don Peppino Zito, Monsignor Zito, diceva che hanno fatto i lavori, hanno messo la nuova cabina qui elettrica, purtroppo hanno lasciato la parete. Hanno ragione, avete fatti i fatti vostri, voi dell'Enel o l'azienda incaricata. Ma scusate, non andava riattintata questa parete? Non dovete fare i fatti vostri e ve ne andate, dovete fare i fatti della città. Quindi sarebbe una cosa buona, voi tornaste e riprendete.